Eccolo, eccolo, benvenuti in questo nuovo video, io sono Barbuto ma non ho la barba Allora visto che l'altro giorno vi è piaciuto un sacco la reaction ai tiktok della mia ragazza Oggi ho deciso di fare la reaction ai tiktok di mia sorella So che a voi piacciono le reaction dei tiktok proprio in generale fatte da me, dal sottoscritto da Barbuto il campione Quindi per variare un po' oggi porto una reaction che non ho mai fatto L'avevo già iniziata ma il telefono mi ha cancellato la registrazione schermo Come capita spesso e volentieri Oggi vi voglio dire una roba, a parte che qualcuno avrà notato ho cambiato di nuovo arredamento della camera Ma non ve lo farò vedere oggi, ve lo farò vedere nel prossimo video Comunque stavo dicendo oggi non è proprio giornata perché prima mi è caduto il telefono Si vede sicuramente, si è spaccato tutto, per fortuna si è spaccato il vetro Il doppio vetro, cioè non per fortuna si è spaccato il vetro, cioè il doppio vetro Spero sia quello, non riesco mai a capire se è quello sotto o quello sopra ma credo quello sopra Comunque bando alle cianciofile Se sei nuovo mi raccomando iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto Perché ti metterò un cuoricino, cercherò di metterlo a tutti per darvi il benvenuto personalmente E iniziamo subito con questa reaction Reaction Damn bro Dicono che sul pollice ci sia scritta l'iniziale del nome della propria anima gemella E non vedo nessuna lettera Mi sa che questo tiktok non funziona Oh che tenera, che tenera la mia sister Nooo, perché piange? Nooo, 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 perché piange Comunque non vedo mia sorella penso da 5 mesi Da gennaio che non la vedo, che mese siamo? A maggio? Fino a febbraio, marzo, maggio 5 mesi che non vedo mia sorella, la mia famiglia Con un po' di nostalgia Eccola Eccola Si mette le cuffie nel naso, perché? Milano o Yo, yo No vabbè Sembra di avere un subwoofer Un subwoofer proprio Nell'orecchio Dopo voglio provare anch'io Anzi, provo subito Chissà se funziona con tutte le canzoni Con le airpods è molto più comodo comunque, vedi? Vediamo Mettiamo una canzone di Travis Scott Di Travis Scott Sì Sentiamo Sì, detto tutti, sì A me sembra uguale A me sembra uguale Magari funziona solo con alcune canzoni Belle le cuffie prima nelle orecchie e poi nel naso Cioè prima nel naso e poi nelle orecchie Ok, continuiamo Continiamo con la nostra Non avrò più una reputazione Ah, questo tiktok l'ho fatto pure Ma dov'è la testa? Raga, vi ripropongo qua l'immagine Dove cavolo è la testa, raga? La terza, come ha fatto? Andiamo avanti Oh, guardala Che chiattrice Come entra nella parte Guardala Attenzione Eccola Eccola Brava mia sorella Molto brava Eccola Con mia mamma Le palle Andiamo avanti Mi ricordo che mia nonna diceva sempre Una banana al risveglio ti fa sembrare tutto bello No Secondo me una banana al risveglio ti fa sentire meglio Ebbene quella non si può dire No Era simpatica mia nonna Tito Periferito Mamma mia come sta crescendo mia sorella In cinque mesi è cresciuta tantissimo Che bei vestitini Proprio figa mia sorella Una sua Che bei vestiti Tra l'altro non so se notate ma mia sorella ha i capelli simili ai miei Un po' più scuri Gli ho copiati Lo ammetto Gli ho copiati No Ah lo conosco sto video No Gli sciocchino Non voglio imparare Gli sciocchino ma cosa stai facendo Ok Eccola eccola che fa la tinta E' proprio quella che ho preso anch'io Gliel'ho copiata senza saperlo Io pensavo l'avesse presa rossa Perché su di lei sembrava rosso E c'è anche lei ha preso un roll della stessa proprio I'm savage Vediamo chi stanno meglio a me o a lei Vediamo Vediamo a chi stanno meglio A me o a lei Votate Votate Voglio il voto Il voto voglio Votate Martina o Giuseppe Secondo me sta meglio a me Cioè comunque Barbuto è sempre piaciuto Scusa Martina Ma Barbuto è sempre piaciuto Passiamo col prossimo TikTok Oddio Quello sono io Con i capelli arancioni E' questo qua è il periodo in cui ero dai miei Quindi credo gennaio Dicembre gennaio Di nuovo io Vuoi capelli arancioni Eccolo Sempre io Eccolo Ospite speciale Gelato Che bei capelli che avevo Altro che adesso Io comunque penso di aver cambiato Più colori che mutande Nella mia vita C'ho una fame Ma qualcosa da mangiare Sì Sto figlio C'ho fame Ma dovevo Mi stai prendendo il volo Questi TikTok sono bellissimi Bellissimi Io e mia sorella Facciamo sempre questi qua parlati Perché i balletti Io non li so fare Ed eccone qua uno Infatti Guardate che impedito Barbuto Nel fare i balletti Cioè prima ero impedito Adesso sono un po' più bravo Però guardate prima Cioè Ero impeditissimo Ma il bello è che ero pure convinto Canto sopra raga Perché sennò mi danno il copyright E non vogliamo che ci diano il copyright Oggi sono strano comunque E qua ragazzi Che stile comunque Che stile Cioè Barbuto comunque si veste in un modo Che io Vorrei dire Il modo di vestire di Barbuto È sempre piaciuto Barbuto Campione Stilista Barbuto è stilista Eccolo che si appresta In un altro balletto Se vuoi ballare con me Ti consiglio di non farlo Perché Barbuto è negato Col balletto Come ero magro raga Qua mi sa che era ancora prima Tipo l'estate scorsa Era l'estate scorsa Ma vi avete presente l'estate E non questa Non questa la scorsa Ecco quella scorsa Ecco Era della Passiamo col prossimo Tick tock Eccola Io che faccio Lasciamo con i miei amici Cresci dietro Guarda Io che mi accorgo Che ho appena fatto Una figura di merda Che faccio Comunque raga Date un premio a mia sorella Perché mia sorella E' stra 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 divertente E' stra bella Proprio E' mia sorella Quindi è bella Cioè perché comunque Se Barbuto è sempre piaciuto Proprio a sorella E' barbuto è sempre piaciuta Oggi Diciamo che Figa Parlo un po' così Zio Perché C'ho la giolla Che mi è andata di traverso Zio Cerco di strafatizzare un po' Perché oggi è stata una giornata Proprio di merda Che non so se mi spiego Ok Adesso che mi sono smerdato Abbastanza Pepito sta fermo Sto registrando un video E' obbedisce Obbedisce Lo sto addomesticando Pepito per bene proprio Se vedi lo stai zitto Lui sta zitto Comunque questo Era la reaction Ai tiktok di mia sorella Sicuramente vi sarete divertiti Perché comunque Il video di oggi È stato pieno di ignoranza Oggi mi sono smerdato Alquanto I tiktok di mia sorella Sono bellissimi Qualcuna ha suonata Il campanello Perché barbuto è bello Pizzà? No Sbagliato Per chi? Sbagliato Ah ok Sbagliato Ha bagliato Ha bagliato Ragazzi la pizza Ha bagliato Ha bagliato E che volevo dire? Vabbè Non mi ricordo cosa stavo dicendo Cosa stavo dicendo? Niente Comunque Ah si Stavo dicendo che oggi Mi sono smerdato abbastanza Comunque Nel prossimo video Vi farò vedere un po' Come ho riarredato Di nuovo la camera Ve lo tengo segreto E ci vediamo domenica Perché ogni mercoledì Ogni venerdì Ogni domenica Esce un nuovo video Alle 18 qua su youtube E lo sapete Ogni giorno alle 21 sono in diretta su Twitch Vi lascio il link in descrizione Nel primo commento Ogni giorno alle 14 alle 18 Escono due tiktok Ogni giorno escono storie su Instagram Ogni due giorni esce un post su Instagram Vi lascio tutti i link in descrizione Vi lascio in descrizione Nel primo commento Anche le felpe pettacolo Perché le ho ricaricate di nuovo Perché ne sono finite 200 in tre giorni Le ho caricate al 300 Non so quante ne siano rimaste ancora Me le lascio in descrizione Vi conviene andare ad acquistarle Se volete un pezzo di barbuto Sempre piaciuto Spettacolo Noi ci vediamo domenica Oddio sto perdendo la ragione Ciao